ragazze ragazze sveglia luto luto è il natale babbo natale ha portato i regali su alzatevi 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 auri giuli qui c'è anche giuli con noi stamattina perché ha dormito qui e adesso andiamo tutti insieme ad aprire i regalini sveglia luli andiamo mettiamo quelle super ciabattine bellissime daniela devi svegliarla con forza questa qui non si sveglia stamattina aspetta adesso ci pensiamo ci penso io a svegliarla svegliala tu svegliala che questa qui piano 3 2 1 soletico 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 ok ok soletico su su alzatevi oggi che torno è natale babbo natale ha portato i regali aiutatevi poter guardare il regalo fate goda e coda andiamo mi aspetta sono arrivati i regali allora aspetta allora questo di chi è? li vogliamo vedere tutti di chi è? allora questo è di Ludo c'è scritto Ludovica scarta la carta, scarta la carta, scarta la carta hai visto? è questa che si illumina cos'è? c'è qualcosa che si illumina? fai vedere sbatti, sbatti le scarpe che si illumino vediamo wow che belle ma ha mangiato anche i biscottini lì ha mangiato anche i biscottini si è pulito con la barba si è pulito la barba Ludo come sono belle vediamole è bellino mamma mia che scarpe fashion che ti ha portato Babbo Natale ok dai questo qua di chi è? questo è di Ludo vediamo no Ludo Ludo è un cane vero è un cane no cos'è 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 amore ma si dai viverò questo cagnolino lo apre certo immagino lo apro? vabbè dopo glielo apri vabbè dopo glielo apri lo vuoi aprire? aspetta aspetta ma dopo te lo apri papà ci vuole la forbice eh appunto mettiamo qui vicino a te dai apri uno tu Auri questo questa guardiamo guardiamo no 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 scarta la carta 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 cos'è? cosa ti ha portato Babbo Natale? uno sciarpone che bello che bello questo sciarpone vai apri un altro Aurora vabbè dai apri tu scarta la carta 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 allora vuole dire scarta la carta scarta la carta cosa è? cos'è? 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 una gonnellina che bella e quello è di Ludo eh ok ok dopo lo apriamo ehehe uguale ce l'ha anche Giulie eh Giulie è un altro questo qua non mi va eh eh si eh questo si adesso tocca Ludo Ludo questo è l'ultimo regalino No e poi c'è un altro mio Vediamo cos'è No Ludovica Cos'è Luli Cosa Che bello Ma questo c'ha le rotelle che si illuminano Adesso Aurora Ludo ti sono piaciuti questi regalini Che ti ha portato Babbo Natale Provale Cos'è No ma sei seria Cosa ti ha portato Babbo Natalino No mamma Cos'è Federe gira Che bello Un portatrucchi Che bello Cos'è 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 Wow Che borsa Fashion Cos'è C'è No È una cover È una cover Tutta in tinta Questo è il mio sempre Sì Va bene Come sono stati questi regalini Bellissimi Luli Non ti ho sentito a te Sì Sono stati belli Sì Adesso Passiamo Alla colazione Eccolo Fammi vedere Luluca Sei ricevuto da Babbo Natale Che cenere Che cenere Questo cagnolino Ma sei rimasta contenta Amore Quanto 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 Mamma Guarda che ho fatto Wow Già hai sistemato Tutte le cremine Queste qua Sono le creme I bagnoschiumi I maschere E la matita Che belle Questi Cosa sono Questi qua Sono un sacco di burro D'aromai Madonna Che bello Ludovica Ma chi ti ha regalato Questa tutona Mamma mia Girati Fammi vedere Con queste ciabattine Mettiti il cappello Vediamo come stai Col cappello Vediamo 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 Oh Anche la coda Ma sei bellissima Questo è il tuo pigiamone Sì Adesso però Facciamo colazione Ok State mangiando Tutti i cornettini Dopo io e lei Dammi un altro No 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 Signori Sono mie No signori Signori Tu dammelo comunque Un po' di latte Dopo io e lei Ci toccheremo Ludo Tu che stai mangiando I biscottini Li apriamo Sì Lulù Com'è questo latte E' buono Ti piace Mi stavo bagnato Quasi Questo pigiamo Eh no Eh Non lo bagnare Perché è troppo Bello Prendi Prendi Mamma mia E voi Come Perché se no Poco Tutti i lato Vai Come è bello Ti somiglia Questo cagnolino Lo sai Prendi 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 Grazie a tutti.